Ma lo senti questo odore di cammino acceso? No, queste sono caldarroste solo. L'inverno sta arrivando. Vuoi un po' di panettone? Ma che schifo, dove ce l'avevi? Oggi ho messo il giubbotto, quello invernale, e io solitamente ad aprile lascio una fetta di panettone così a novembre me ne scordo così un attimo di felicità, guarda. Ma ecco i canditi. No, è muffa. Ma che schifo. Però meno di due anni fa, meno di due anni fa. Hai scelto il film? Ecco qua. E' inverno. Ho capito, ma è che è un maglione di lata? E' inverno e sono single, chi mi deve guardare le gambe? Guarda il film. Vedi una volta a mettere le cose da parte. Sono ricco. Grazie a me del passato. Settecentocinquanta euro al mese per venticinque anni. Il tasso mi sembra congruo. A che mi serve? Vorrei tanto potermi permettere un cartoccio di caldarroste. Pronto? Pronto? E' la quarta banca a cui cade la linea. E' incredibile. Maledetti uomini. Oh, ma sei pronto per fare il lavoro di Natale quest'anno? No, io non l'ho mai trovato. Ah, è quasi l'anno scorso. Guarda, dice Halloween, le uova di Pasqua. Vabbè fa... Ma quella è mia mamma. Ah. Ma che hai fatto? Ho fuso la seratura della porta. Sta arrivando l'inverno. Dobbiamo rimanere chiusi in casa senza nessuna scusa. È il tempo di tisana e cioccolata. Tisana e cioccolata. Non mi avrai mai. Troppo tardi. Ma che... Come... Ma come hai fatto? Ma che... No. No, ti prego no. 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 Una fortuna per due. Nico. Abbiamo bucce di mandarino. Si, perché? E portamela così le buttiamo nel camino così profuma casa. E noi non abbiamo un camino. E che è? Ah. È in televisione allora. Porta un secchio, Nico. Porta un secchio. E l'acqua? Hai detto porto un secchio. L'ho mandato. E l'ho mandato a fuoco. Che ce lo facciamo? Ma vai a prendere l'acqua. Vieni, l'abbiamo pagato l'acqua. Vieni, l'abbiamo pagato l'acqua. E vabbè, allora fa atmosfera. È freddo. È male che mi sono festito a strati. È freddo. La vostra è freddo. È ben deciso. Eccoti. Amico mio, mi sei mancato. Adesso saremo inseparabili, te lo prometto. Mi sono attaccato come la lingua sul palo. No. Aiuto! Aiuto! Ma è novembre? Anna! È novembre, hai già scongelato mai col bublè? È no... Ma qual è un albero di Natale? Piero, Natale alle porte. Fa ambiente. Ma che ambiente è novembre? La gioia del Natale! Spostati, devo andare a fare i regali se riesco a uscire. Ma che cosa è novembre? Che regali devi fare se è novembre? Senti, hai pensato che regalarmi per Natale? Non voglio ti regalarmi per Natale! È novembre! Ma che un mese e mezzo è Natale! È novembre! Iscriviti al canale! Attiva la campanella, è novembre! Attiva la campanella e seguici su Instagram! Iscriviti!